attenzione che già ho visto tutto il mazzo è andato lì Buongiorno a tutti. Il dato è bancatissimo, vai! Eh, fammi sto semolo! Vai, vai! Hai visto? Te l'ho detto il trasto che è bancato! Tanto era proprio uno per io! Si, si immagini! Bello! Un po' adesso ok la prima volta! Vado vado y clearer! Senta vado! Non qualche mica? Ma che ballante in? Cosa. Quanto rientro d'elana e pulito! scale! Diıı! Noi, con diewin pau! Un cibo dove spostrua? Un cepic. Una porta per turnite. Un tipo lo sugerì. Ma! 공it. La comunité. Es basta. che fate spino? guardo la mano e ti sgommosso prate va bene e ti devo venire addio che mi ha risposto? non c'è un altro perché ci sono altre donne risposte non c'è un altro che mi ha risposto non c'è un altro che mi ha risposto in catena al suo aspetto faccio reggine un po' puoi cambiare tattas ma non sono andato così che effetti sta dando? find vabbè lasciare stare a posto guardi vabbè vabbè sto qui vabbè mi ha fatto riparei un lino se no ma metterai se ne so per domani mettili uno sopra l'altro va bene basta che non gli metti cose di sopra la metto così così si può passare è abbassato addo ma non è un pozzo bravo tu sai che non ho aggiunto Nicola Freddy, se ti interrompo un attimo Freddy, vai a chi le stiamo andando? Ci vediamo dopo, non lo so proprio, vediamo, non lo ti fa più adesso, vediamo, e voi andate al sushi, dipende a cara vi finite, comprare caffè, è dopo viare, ci raggiungo, a dormire davanti, per avermi il mio davanti, ma poi io per avermi il suo sushi ti chiami, ok? Ciao, 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 ciao. Mara, grazie. Multifaker risolve solo... 6 evocato scherzo. Paolo 4000, targetto lui. Perfetto, non so cosa faccio, rivelo tre equipaggiamenti e ne aggiungo uno dal declamato, a caso. Non ce l'ho in Italia, non lo so, però gli altri effetti non lo so, cosa fanno, non li attivo. Ah, sì, sì, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so perché attivo solo questo. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Vai, guante a cuore. Perdo altri 400. Giampo in mano Si, lui va al cimitero Ho giampato la... Ah, la didier Si Il Autismo Ma 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 il token metto il nuovo token il token c'è un'obiettale il token Attivo un toro. 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 Attivo. 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 Attivo un toro. 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 ... ... ... ... ... Che cosa è? Delizio! Se non ha materiale non ponde il cabello Se spacchi questa non lo posso dare 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 Non lo posso dare